Allora, mi sono chiesto ma è possibile nella nostra realtà, nella vita reale in cui viviamo diventare un supereroe? Ebbene, all'interno di questo video andremo a vedere se diventare Hulk nella nostra realtà è possibile oppure no. Però, prima di iniziare questo video, che reputo molto interessante per i fan di Hulk, ma non solo, e se vi piace questa tipologia di video potremo farla anche con altri personaggi, come per esempio è possibile diventare Spider-Man nella realtà, oppure Wolverine, oppure Iron Man, un po' con tutti i personaggi si può fare, perché sono delle tipologie di video, secondo me, molto ma molto interessanti. Però, adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Allora, riproturre Hulk, ve lo dico fin da subito, diventare Hulk è praticamente e teoricamente impossibile. Non si può incrementare la massa muscolare e l'ossatura di un essere umano nel giro di pochi istanti, come si vede nei fumetti e come si vede anche nell'MCU e non solo. Per di più, attraverso un meccanismo legato all'emotività, perché sappiamo che Bruce Banner si trasforma quando è particolarmente orrabbiato, oppure quando i suoi battiti cardiaci arrivano a dei battiti veramente troppo elevati. Ecco, questo è praticamente impossibile. Poi, passando alla forza di Hulk, sappiamo tutti quanto sia potente Hulk e che forza abbia. Ecco, sarebbe replicabile sì, ma solo attraverso pesanti ed ingombranti esoscheletri. Che tuttavia, però, fate ben attenzione, non moltiplicano la forza, ma assistono lo sforzo umano per rendere il carico percepito più leggero. Un'altra caratteristica di Hulk che noi abbiamo visto in alcuni film, anche non solo del Marvel Cinematic Universe, ma film anche più vecchi, quelli del 2000, è che Hulk ha questa caratteristica che può correre a una velocità molto elevata e inoltre può compiere dei balzi lunghi dei chilometri. Ecco, questo è impossibile perché non c'è nulla su questa terra, almeno per il momento, che possa compiere un balzo di quella portata. Perché semplicemente esistono delle regole della fisica e della biomeccanica che lo impediscono, senza inoltre contare il fatto che correre più veloce di un elicottero comporterebbe avere una velocità pari ad almeno 10 volte quella di un centrometrista. E facendo due calcoli, un velocista che corre 100 metri in 10 secondi ha una falcata di circa 3 metri. Se Hulk dovesse correre 300 chilometri quadrati, avrebbe una falcata di circa 30 metri, il che è praticamente impossibile anche per un essere alto 5-6 metri come Hulk, perché Hulk, lo sappiamo tutti, è un personaggio estremamente alto. Quindi la forza di Hulk, per concludere, è solo vagamente replicabile attraverso delle macchine, macchine che poi sono ingombranti e poi vi ho spiegato prima che assisterebbero solamente allo sforzo umano per rendere il carico percepito più leggero. Inoltre la sua velocità e la capacità di saltare dei chilometri non sono alla portata di alcuna tecnologia esistente nel nostro pianeta, almeno fino a questo momento. Quindi abbiamo analizzato un po' alcune delle caratteristiche più rilevanti, più fondamentali di questo personaggio che è Hulk, un personaggio che io amo, e per rispondere alla domanda del video se è possibile diventare un Hulk, Hulk nella vita reale, la risposta è un secco no. Non è possibile diventare Hulk nella vita reale, o almeno l'Hulk che noi conosciamo nei fumetti, per questi motivi che vi ho spiegato attraverso la scienza, attraverso la biomeccanica. Quindi io spero che questo tipo di video, questa tipologia di video vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta fatemelo sapere qui sotto nei commenti, inoltre fatemi sapere con quale altro personaggio vorreste questa tipologia di video. Detto ciò, ciao a tutti!